Bella ragazzi, prima di iniziare con il video devo dirvi una cosa Siccome ragazzi ho provato a caricare un video di Call of Duty su questo canale e non ho ricevuto il giusto feedback che pensavo Che avrei ricevuto, ho deciso di fare poi, ovviamente non so se in sti giorni o comunque, di fare un canale dedicato a Call of Duty Poi vi darò ragazzi tutte le notizie, le informazioni se appunto volete seguirmi anche su quel canale Ovviamente solo persone che o lo fanno per comunque come sono io ragazzi Quindi se magari siete diciamo affezionati a me oppure ragazzi che comunque vi interessa Call of Duty Ci tengo tantissimo ragazzi ed è per questo che sto aprendo questo nuovo canale Però ragazzi spero tantissimo che mi seguirete anche su quel canale Ovviamente se siete interessati al contenuto che porto e soprattutto se mi seguite per me Inoltre ringrazio tutte le persone che mi seguono quando sono in live su Twitch Che come sempre vi lascio il link qua sotto in descrizione del mio canale Sono in live tutti i giorni, ci sono persone che ragazzi siccome in questi ultimi giorni ho portato Call of Duty Cold War Che era la beta, cioè l'alpha del gioco Ora pensano che sempre porto Call of Duty e basta Non entrano neanche più nelle mie live di Fortnite Ragazzi è sbagliato perché io comunque porto sempre Fortnite Cioè ragazzi non è che posso lasciare un canale così grande buttato nel cesso Quindi ragazzi io porto pur sempre Fortnite E ovviamente più persone ci sono più mi danno stimolo di continuare Quindi ragazzi io vi aspetto ogni giorno in live su Twitch Trovate qua sotto il link In questo video vi farò vedere una sensibilità esponenziale veramente devastante Che ho provato all'interno della mia live di oggi ragazzi Per chi c'era l'avrà sicuramente vista Io comunque ragazzi volevo salutare Elite Peppe e Elite Fede Che hanno riscattato una delle ricompense che appunto si effettuano guardando le mie live su Twitch Quindi li saluto belli rega Detto ciò ragazzuoni io vi aspetto nelle mie live in tantissimi E detto ciò iniziamo con il video di oggi Ok ragazzi come potete vedere siamo su Fortnite Siamo in creativa E ragazzi quello che vi farò vedere oggi È appunto una sensibilità in esponenziale Io ragazzi ultimamente come ben sapete sto giocando relativamente poco su Fortnite Però ragazzi dicono che comunque sono sempre e dico sempre in live sulla piattaforma viola Che comunque lo streammo Cioè nel senso ci sto giocando poco rispetto a prima Però comunque continuo comunque a streamarlo Adesso ragazzi ho avuto due giorni di stop Perché appunto era uscita l'alpha di Call of Duty Cold War Comunque ragazzi come potete vedere siamo nel percorso di edit Che è il solito percorso di edit Perché ora ragazzi voglio farvi vedere com'è appunto questa sensibilità in building, edit ecc E poi ragazzi vi faccio vedere alcune clip che ho realizzato oggi in live Niente ragazzi come potete vedere per essere un'assenza in esponenziale è carina Guardate Cioè i movimenti sono abbastanza belli Ok guardate Sono niente di che Cioè non sembra esponenziale Sono un po' linear Cioè capite guardate Sembra lineare È incredibile Cioè non è assolutamente male Adesso vi faccio vedere un attimo il building ragazzi E poi adesso vi faccio vedere Guardate Fuck Let's go guardate ragazzi Cioè per essere in esponenziale ragazzi come sapete gioco linear E per essere esponenziale i movimenti sono buoni Vedete Cioè sapete che è esponenziale ragazzi di solito rallinta tipo il movimento di un botto Eppure guardate Cioè non è male Non è assolutamente male Ho sottovalutato l'esponenziale Anzi ragazzi se devo dirvela tutta Da quando sono tornato da Da punto Call of Duty Cioè nel senso sapete che io mi alterno Fortnite e Call of Duty Ecco Devo dire che comunque sia Esponenziale mi trovo bene Perché è linear Vi fa smirare Poi appunto se siete abituati ad altri giochi ragazzi Esponenziale devo dire Che è veramente buona Cioè guardate Che roba Non è assolutamente male ragazzi Non è male Detto ciò ragazzone Adesso vi faccio uscire anche delle clip Le state vedendo sicuramente già sottofondo Nel video ragazzi E vi parlo della sense La sense come ho già detto prima ragazzi È la sensibilità in esponenziale Che ha una curva di comando diversa Da quella di lineare Ormai si sa ragazzi Deve mai essere risaputa sta cosa Lineare è un comando diretto Quindi sentirete la sensibilità Molto più leggera Come se appunto state giocando Da mouse e tastiera Invece ragazzi Questa sense che appunto è un esponenziale Ho deciso di farla con Zona morta 5.5 Per essere belli veloci Quindi senza avere ritardi Eccetera Abbiamo un esponenziale Logico E un tempo di smorzamento visuale Di 0,01 Molte persone Non hanno ben chiara questa cosa Però ragazzi Vi assicuro che se usate Esponenziale Con 0,020 Cioè 0,20 Fidatevi che ragazzi Si sentirà la sensibilità La visuale In particolare Molto ma molto pesante Se invece usate 0,01 Vi troverete bene Avete quel piccolo Millesimo di secondo Di ritardo Che comunque eviterà Smirate belle potenti Ve lo assicuro Parliamo invece Della sensibilità Appunto di Merino Come sensibilità Merino Ho deciso di mettere 15 e 15 Ragazzi come starete vedendo Dalle clip di sottofondo Non so se già Sarete arrivati a quel punto Comunque In distanza È veramente ottima Io non ho mai usato Sensibilità così alte Tipo 15 e 15 Però devo dire Che è veramente ottima Forse perché È esponenziale Ragazzi Quindi la curva di comando Un po' più pesante Un po' più lenta E si riesce a gestire meglio La sensibilità Appunto di Merino Per quanto riguarda Il building edit Ragazzi sono riuscito A stare eco Ovvero 2-2-2-2 Che direi che ci sta Ragazzi Non è affatto male Sia il building Che l'edit L'avete visto Ragazzi È molto Nell'edit Sembra bello veloce Però controllabile Nel building Ragazzi Sembra pesante Come esponenziale Però è ottimo Ragazzi È bello clean Per quanto riguarda La sensibilità di visuale Ragazzi Abbiamo 53-52 Non è tantissimo alta Ma nemmeno bassa Ragazzi È straequa Per essere una sensibilità Esponenziale Dato che molti usano Tipo 43-53 46-53 Cose così Ragazzi Invece 53-52 A parer mio È ottima Come sensibilità È bella equilibrata Ricordate Accelerazione immediata Durante la costruzione Mettete no Ok Mettete no Che comunque sia La differenza Si vede e si sente A parer mio È ottima Sta cosa ragazzi Fidatevi La sensibilità Ragazzi Era questa Io vi consiglio Di provarla Io Non so se ve l'ho detto Comunque sono passato A pad normale Vedete Senza palette E niente Quindi gioco Con un pad normale Non in claw E questa sensibilità A parer mio È ottima Vi dico Vi ho fatto questa precisazione Perché ragazzi Ho notato una cosa Quando avevo provato A giocare in claw Ho dovuto cambiare Un po' la sens Quando avevo provato A giocare in claw Perché Perché la sens Appunto Con il fatto Che noi giocheremo Con una configurazione Delle mani del genere L'analogico Lo controlleremo In modo diverso Quindi secondo me La sensibilità Varia anche in base Se tu giochi in claw Oppure non giochi in claw Sta roba ragazzi Può avere della verità Di esso Può essere una cavolata Però ragazzi Effettivamente Quando un mio amico Che appunto gioca in claw Mi consiglia Una sua sensibilità Non mi trovo mai bene Non riesco a capire Perché ragazzi Però veramente L'analogico Giocando in claw È più difficile Da controllare Se per di più Saltate con l'R3 È la fine ragazzi Non si riesce Proprio a controllare Bene l'analogico Fatemi sapere nei commenti Voi che cosa ne pensate Ragazzi Fatemi sapere Se secondo voi La sensibilità È bella Oppure no Perché magari Vi trovate male Fatemi sapere nei commenti Se secondo voi Questa stagione È meglio Esponenziale O lineare Scrivetemelo Qua sotto nei commenti Detto ciò ragazzi Spero che il video Vi sia piaciuto Come sempre Vi invito a lasciare Un bel mi piace A questo video Di iscrivervi Al mio canale Che siamo quasi ai 100.000 Di condividere questo video Con tutti i vostri amici Detto ciò ragazzi Qui è tutto Da Rampage E Bella Ciao Ciao Ciao